Con Alessandro Boldini, vice sindaco di Prascorsano, anche loro sono in fiera? Anche noi siamo in fiera come Unione Montana Valgallenca. L'Unione Montana Valgallenca è neonata fra i comuni di Prascorsano, Canischio, San Colombano, Pertusi e Valperga. Abbiamo uno stand nel quale promuoviamo le attività dei nostri paesi e fortunatamente sta andando bene. Abbiamo tutte le sere dei micro eventi, questa sera con la Proloquo di Prascorsano presenteremo dei crostini al miele con il vino dell'Associazione Ara e dei vignioli Valperghesi e dei torcetti e pasta di meliga nel nostro comune. Ci sono un sacco di cose buone, passateli a trovare.